che questa è la rassegna in conto con l'autore, gli altri due incontri allora buonasera a tutte e tutti ho davanti a me l'amico Federico Berti oltre a essere un carissimo amico e anche lui criminematografico quindi non so Federico se anche a te accade quando cominci a leggere un libro vedere un film o ascoltare un disco ti metti a cercare degli aggettivi perché tu pensi automaticamente a quello che tu dovrai dire o scrivere dopo di quel libro, di quel film, di quel disco a me ormai succede e devo dire che è molto interessante vedere se gli aggettivi che ho identificato all'inizio quando cominci a leggere sono poi gli aggettivi che ritrovo alla fine questa volta è successo allora vi posso dire che il primo aggettivo che mi è venuto in mente è denso perché è un libro che prende in mano alcune grandi realtà della storia italiana le collega attraverso una dimensione biografica su un'esperienza fatta concretamente all'insegna di una domanda che poi condivideremo che ti farò direttamente Simona e da questa dimensione il libro poi evolve su una dimensione storica che tocca anche la contemporaneità ma poi c'è un passaggio anche personale che a me ha molto colpito e vi spiego anche perché allora uno bisognerebbe sempre i libri avesse la fortuna di comprarli e cominciare a leggere perché uno conosce l'autrice due perché c'è una tematica talmente importante che lo attrae senza poi però ricorrere alle sinossi e meno male questa volta ti posso dire io l'ho letto senza sapere niente altro se non questo riferimento di Sant'Anna di Stazzema e Montesole perché la parte dove il libro diventa molto interessante è quando Simona racconta di sé della propria condizione di salute l'intervento molto complesso è avuto all'orecchio e lì allora tutta la riflessione evolve su questa prospettiva del sentire che diventa allora una delle cave di lettura del libro perché si tratta di sentire certi eventi viverli in prima persona significa sentire la storia quella passata e quella che si sta attraversando in quel discrimine particolare per cui noi oggi ci abbiamo già delle cose alle spalle ma nel momento in cui viviamo ci proiettiamo già verso quello che sarà e questa è la storia è questa e noi spesso si pensa che la storia con l'S maiuscola non tenga conto della nostra storia con l'S minuscola e delle altre storie delle persone comuni invece questo è un libro che partendo appunto da alcune vicende particolari su cui poi mi soffermerò entra anche sulla storia personale e allora proprio a livello di condivisione di storia perché questa è stata una sorpresa notevole nel leggere questo libro perché io da ottobre 2020 ho una diagnosi di linfoma nonodgine follicolare per ora indolente niente di paragonabile a quello che hai vissuto te perché gli interventi chirurgici sono interventi chirurgici e lo racconti molto bene quindi c'è proprio un'idea della fisicità necessariamente violata però insomma comunque c'è un'idea forte dell'idea che insomma tu hai un'integrità che in qualche modo viene messa in discussione che devi ripensare e quindi la tua vicenda l'ho letta anche perché quando tu racconti di tac da fare di risonanze magneti e tutto il resto e tutta roba l'ho fatta anch'io io in prospettiva ho qualcosa di molto diverso da quello che hai vissuto te ma insomma comunque per dire che è bello quando in un libro trovi il racconto di fragilità affrontate non necessariamente risolte anche se insomma vederti così significa già capire che certe cose l'hai risolte e capire insomma che la vita è anche questo e anche attraverso questi passaggi si fa la storia insomma gli scrittori hanno anche questo peso molto forte che è quello di raccontare la storia le storie con la propria storia da questo punto di vista se mi consente di entrare un attimino nel mio ambito specifico di studio e di lavoro ti posso dire e questo è fra l'altro una delle grandi chiavi della profezia biblica il profeta, la profetessa nella Bibbia parla a partire dalla propria esistenza e allora c'è il piano della vicenda personale e il piano della storia e la profezia è qualche cosa di sconvengente lo dico anche in senso estremamente laico perché consente appunto di leggere su questi due passaggi è un libro denso perché affronta anche la questione di questi due grandi luoghi che sono luoghi che dovrebbero essere al centro assoluto della memoria collettiva non solo in questa regione ma a livello nazionale e per certi aspetti lo sono però ecco la domanda che ti rimando subito se tu avrai voglia poi di rispondere ti ho fatto un'esperienza di un certo tipo noi come si fa a conservare la memoria di certi fatti per le generazioni che sono perché anche tu incontri tutta una serie di persone e sono persone che sono appartenenti a generazioni diverse ma anche a Sant'Anna c'è il grosso problema di vedere la generazione di testimoni e delle testimoni che si sta esaurendo anagraficamente parlando ed è il problema che abbiamo noi come ampi di capire insomma questo fardello che dovrebbe essere estremamente felice della resistenza chi lo prende in carico e come si fa appunto a fare una memoria della guerra di liberazione in Italia senza testimonianze dirette lo so è un domandone ma insomma come diceva la mia mamma dei bambini buoni se ne approfittano tutti anche i bambini bravi insomma ecco perché Montesolo e Sant'Anna di Staziano sono passaggi irrinunciabili bisogna andarci fisicamente per capire quindi questo lì è un libro che introduce una visione necessaria da un punto di vista personale e possibilmente bisognerebbe fare anche come hanno fatto Simona e le sue compagne e le sue compagne di iniziativa perché il problema è anche quello di arrivarci fisicamente con dei mezzi piuttosto che altri cioè si può andare tranquillamente con l'automobile si può andare a visitare luoghi come si vuole però questa idea del transitare con le proprie gambe e Simona lo racconta molto bene cioè questo viaggio che si snoda su una dimensione sicuramente anche avvincente da tanti punti di vista però insomma Sant'Anna di Stazema e Montesole sono due passaggi credo irrinunciabili e fra l'altro ti racconto un fatterello io sono diventato parroco della piccola comunità in cui sono tuttora alla fine del 1999 quindi nel 2000 c'era questo grande problema totemico del giubileo e io che non sono molto fra l'altro neanche addentro ma insomma nemmeno sicuramente non inclini a certe manifestazioni cattoliche i miei insomma hanno cominciato a chiedere ma cosa si fa l'anno prossimo ho detto bene a Roma ci si va nel 2001 ci saranno tutti noi ci si può andare l'anno successivo noi identificiamo questo su input anche di Massimo Toschi tre porte sante in Toscana e andiamoci Toscana o Punta Pennino Montesole Sant'Anna di Stazzema e Barbiana un altro posto che tu conosci molto bene perché è della realtà di casa tua ecco e lì abbiamo fatto questi tre passaggi perché credo che lo dico per raccontare un'esperienza ma forse poi qualcuno di voi una sensibilità di ordine religioso ce l'ha insomma ecco io credo che bisogna cominciare a dire con chiarezza che un certo tipo di atteggiamento nei confronti degli esseri umani è già direttamente spirituale comunque lo si voglia poi definire in relazione a quale Dio non mi interessa ma bisogna entrare anche proprio nella mistica di un certo atteggiamento dico questo per dire cosa spero che nessuno si scandalizzi io dico per esempio l'antifascismo è anche un'esperienza spirituale perché se uno ha un'identità realmente costruita sull'Evangelo inevitabilmente secondo me deve anche mettersi nei confronti degli esseri umani su un certo atteggiamento e quindi deve capire che quello che è successo a tempo debito per vent'anni in questo paese è quello che rischia di riaccadere adesso forse siamo di fronte alla dittatura di un pensiero unico legato alla prospettiva economica soprattutto la massimizzazione del profitto a tutti i costi lo vediamo abbiamo visto anche qui che in nome del profitto si fanno morire le persone si tolgono i parametri di sicurezza si fa lavorare le persone non secondo il contratto che hanno sottoscritto quindi si fanno lavorare nelle condizioni probabilmente senza debita formazione eccetera eccetera ma su questo insomma se vuole vi dirà meglio Simona insomma io in questo libro ci ho trovato un sacco di cose un sacco di sensibilità un sacco di riferimenti io poi di recente ho anche questa esperienza di collaborare anche su un piano diverso a quello che Simona vive professionalmente con un sindacato fiorentino mi occupo un po' delle loro attività culturale quindi sono entrato anche nella condizione del che significa prendere un elemento fondamentale della vita e cominciare a dire insomma quell'elemento lì è uno degli elementi per capire come si fanno vivere bene le persone perché poi in fondo la questione che bisogna porsi è questa ci sono dei luoghi che si possono visitare mi viene detto incontrare e sono dei luoghi in cui ci si è dimenticato del valore delle persone anzi lo si è negato in maniera clamorosa e allora bisogna andare a capire perché questo è accaduto che tipo di ideologie sono state lì in atto e constatare che queste ideologie poi continuano a essere ben presenti purtroppo nella sensibilità e ahimè anche nei figli più giovani quindi ancora si ritorna il problema di come si fa a muovere una sensibilità senza un'esperienza diretta insomma no qui c'è qualcuno c'è un sacco di giovani dicono di essere fascisti o addirittura di essere nazisti ma con quale riferimento di esperienza o vivendo questa identità perché eh quindi denso il primo aggettivo il secondo non vi sembri eccessivo eccessivo troppo sviolinante prodigioso perché la Simona queste cose qui riesce a comporle tutte secondo una narrazione molto interessante e ti devo dire che la parte finale in cui parte appunto questa tua considerazione sul sentire lì entri in una dimensione più articolata di pensiero meno narrativa e più e insomma forse anche l'aspetto che mi ha colpito di più ecco insomma mi ha vinto di più quindi insomma capite insomma ecco un libro che denso e prodigioso non sto esagerando guardate non è nella mia natura è un libro bello perché appunto è un libro che poi tra l'altro ribadisco torna a parlare di cose necessarie perché noi questa dimensione della nostra storia dobbiamo riassumerla fino in fondo perché bisogna decidere nel capire la storia e anche nel viverla da che parte vuoi stare se vuoi stare dalla parte di chi usa violenza o se vuoi stare dalla parte delle vittime e questo se volete insomma è un elemento fondamentale su cui poi bisogna imparare a valutare le persone io non le giudio le persone ma valutare le loro opinioni sì e allora chi nega il significato della vita delle persone io bisogna prendere un'altra strada ma questo lo diceva il mio filosofo di riferimento che ha scritto a tempo debito un libro che è tornato di moda nell'anno scorso perché la peste di Albert Camus tutti l'hanno citata per questo discorso della pestilenza e tutto il resto ma vi ricordo che la peste in realtà colloca storicamente su una dimensione ben diversa cioè Camus racconta la lotta contro il fascismo contro il nazismo la seconda guerra mondiale che cosa ha significato appunto contrastare quella pestilenza e quando lui dice fa dire a un personaggio che è Rie dice insomma qui la morale è molto semplice no? nella storia ci sono flagelli e vittime e bisogna sforzarsi per quanto è possibile di essere dalla parte delle vittime contro i flagelli eh ti faccio l'osservazione finale ecco io questo libro che io ho sentito il respiro della scelta di stare con le vittime contro i flagelli e il complimento migliore che posso fare grazie Andrea della tua lettura insomma mi colpisce molto sono anche un po' emozionato perché si ritorna in presenza dopo tanto tempo uno vede le persone si ascolta si confronta e mi ha lanciato tanti tanti spunti vediamo se riesco a prenderne qualcuno intanto i due luoghi cioè che parte dal da questo cammino cioè Montesole e Sant'Anna di Stazzema sono due capitali morali no? alla fine sono state così colpite duramente nell'estate del 44 poi uno immagina sempre c'è un'idea dell'estate tutta tutta sua come la stagione migliore in cui usciamo in cui anche come corpi ci liberiamo di tanti fardelli tanti pesi eppure queste persone stavano lungo l'Appennino in due luoghi comunque ci avevano cercato un rifugio perché questi posti erano molto popolati proprio in quell'estate lì perché si proteggevano dalla guerra quindi doppiamente violati no? perché uno non stava si era anche staccato dalla città si era staccato anche dalla costa si era staccato da altre parti proprio perché si pensava che lì non arrivasse la guerra non arrivasse l'orrore non arrivasse queste queste terribili stragi eppure sono state le stragi più grandi anche se poi diciamo l'Appennino ma tutta l'Italia ne è stata costellata proprio da dal 44 fino alla liberazione e forse anche un po' un po' dopo come come strascio lo strascio è durato tantissimo e per tanto tempo questi luoghi di cui sapete insomma sicuramente sia i numeri sia l'efferatezza perché ci sono stati libri film documentari diciamo che questa storia è diventata poi piano piano patrimonio però per tanto tempo sono stati abbandonati e per tanto tempo di questi luoghi non se ne è voluto sentire parlare le persone proprio si sono dovute staccare da quell'orrore perché il luogo ricordava solo sofferenza e solo l'orrore quando è che piano piano si è potuto perché io faccio questa considerazione si è potuto camminare lungo quei luoghi lo devo poi a chi ci ha liberato e quindi dalla storia dal 25 aprile nel 45 in poi però per arrivare da quella liberazione al racconto di quello che era stato bisogna aspettare fino agli anni 90 e poi fino ai processi del 2000 quando poi i testimoni hanno potuto piano piano raccontare cioè quando c'era qualcuno che poteva ascoltare che era disposto ad ascoltare e anche a rimettere a posto questi racconti cioè a trovargli una giustizia e questo è avvenuto nel tribunale e è avvenuto piano piano nelle vite individuali di queste persone perché tanti hanno rifugito dentro questo libro c'è l'incontro soprattutto con uno dei superstiti che è Enrico Pieri di Sant'Anna di Stazzema e che lui per una vita è emigrato in Svizzera ha lavorato là se ne è proprio completamente staccato anche se ogni anno tornava a Sant'Anna però in una cosa molto intima solo sua lui ha perso tutto ha perso i genitori ha perso i nonni ha perso gli zii gli era rimasto un unico zio che aveva poi sepolto tutti e lui solo dopo molti anni conoscendo anche la sofferenza del lavoro dell'emigrazione del fatto di doversi confrontare paradossalmente anche con una lingua di cui rigettava le basi che vi potete immaginare di sentire il tedesco chiunque ha avuto dei racconti mia nonna quando gli ho detto alle scuole superiori studiavo tedesco mi si è allarmata come perché ti avvicini a quella lingua come se una lingua o un popolo fosse poi responsabile di tutto ecco anche lui ha avuto questo percorso di elaborazione e di racconto e da lì soltanto dopo il racconto soltanto dopo l'accettazione che un racconto individuale diventasse anche collettivo e le persone lo potessero ascoltare intanto anche credergli essere riconosciuto come questa sofferenza e trovasse un posto nella giustizia lui ha potuto diventare testimone e ha potuto e ha voluto dar mano al museo della storia della memoria Sant'Anna ha iniziato ad andare nelle scuole a raccontare cioè ha dovuto fare tutto questo cammino durato decenni per poter collocare una storia personale e un dolore personale in una memoria collettiva quindi sono processi anche molto lunghi molto dolorosi e molto impegnativi tra l'altro lui ha un figlio che ora insegna all'estero che conosce quattro lingue e quando ha dovuto scegliere la scuola da fare fare al figlio in Svizzera voleva che studiasse bene il tedesco che si appropriasse di una lingua e questo Enrico Pieri ha lottato molto anche per portare le istituzioni tedesche a Sant'Anna per riportare gli studenti tedeschi per come dire ragionare di Europa e ragionare di Europa quando magari qualcuno gli diceva perché chiami il nemico perché porti lui quando noi siamo ancora offesi quando ancora non ce la facciamo mi ricordo molto bene i racconti di quando perché sto lì e quindi quando hanno inaugurato il cimitero germanico della Fusa sopra Barberino e naturalmente quelli di Montesole vennero a protestare perché come si poteva dopo quello che c'era stato e senza collocare e senza avere una giustizia e senza capire come erano andate le storie accettare che il nemico trovasse sepoltura bisogna anche capire ci sono dei processi dell'affrontare il dolore molto che ci vuole del tempo e tra l'altro ricordandosi come si fa a memoria io da un po' di anni mi ero resa conto parlando delle scuole del territorio di Barberino perché io faccio sempre queste visite al cimitero germanico della Fusa fin da quando ero piccola che i bambini entravano in classe e gli chiedevo chi conosce l'outlet e tutti ho le mani alzate chi conosce il cimitero germanico della Fusa forse due in una classe di 25 cioè mi ero resa conto che non si portavano più i bimbi in quel cimitero quando per me quel cimitero è l'origine di tutta la storia cioè di capire che lì vicino c'era stata la guerra capire che si muore giovani perché mio babbo mi elencava anche l'età di quelli che avevano la targa targhe tutte uguali che il cimitero della Fusa se non ci siete stati andateci perché è l'incontrario del cimitero di guerra anche per la conformazione che c'ha tutta molto particolare studiata dell'architetto gli può dare l'idea dell'infinito con questa spirale questa pinna che spunta queste lapidi tutti uguali ecco lì con l'ampi portiamo le scuole le terze medie proprio per far capire che la guerra non è un altrove no? si fanno molti viaggi della memoria verso Auschwitz giustissimi ma poi ci si scorda che li abbiamo avuti molto vicini che ci sono state che la guerra l'abbiamo avuta qua che le stragi sono state fatte qua quindi io direi che come prima cosa sulla memoria non ci si può sostituire a un Enrico Pieri cioè non possiamo prendere né la voce né fare da staffetta con lui però ripossiamo prendere questi luoghi intanto andarci intanto ascoltare intanto anche preservare quei luoghi a Montesole ormai da decenni ci sono chi lo ha piano piano riabilitato chi ha fatto il parco chi ha fatto dei percorsi chi ha valorizzato quel luogo anche standoci anche praticando e in un certo senso ridandogli vita ridandogli anche il senso del nome col sole no? e con la solarità di ritrovare una connotazione a questi racconti Sant'Anna di Stazzama ancora fa un po' fatica diciamo a ritrovare una connotazione del parco c'è Silla il museo però anche Enrico Pieri che ha donato alcune case per farci un ostello proprio perché vuole farci arrivare i giovani anche in cammino come scuola di pace eccetera per confrontare studenti di paesi in guerra fra sé eccetera cioè con progetti anche di questo tipo perché altrimenti rischiamo di fare una memoria solo di conserva no? senza mai collegarla a quello che sta avvenendo oggi e qui mi riallaccio all'altra ferite altri corpi che si parlano in questo libro perché collego quell'estate del 44 quindi delle nostre stragi alle stragi che quotidianamente ma soprattutto d'estate avvengono nel nostro Mediterraneo con i migranti e con tutto quello che sta avvenendo perché noi comunque chiudiamo le porte no? E uno dice ma a che c'entra no? Oppure ma si esagera oppure no ma noi non andiamo lì con la mitragliatrice o non andiamo a incendiare le case o non mettiamo le bombe però chiudiamo però non guardiamo però non salviamo però mettiamo del filo spinato però facciamo degli incontri a livello europeo per dare dei soldi ai paesi che ci impediscono di farli arrivare eccetera cioè facciamo degli atti politici che portano queste stragi e quando siamo arrivati a Sant'Anna di Stazzema proprio per le celebrazioni del 12 agosto che quasi e troppo ricordano le parate militari perché ci sono tutti i gonfaloni perché ci sono tutte le autorità e di fatti gli abitanti fanno una fiaccolata la sera prima perché è una raccolta più intima perché vogliono fare un altro tipo di percorso e di ragionamento e noi siamo arrivati il 12 agosto con dei cartelli su basta Sant'Anna basta stragi anche mettendo le bandiere sia della pace sia dell'Europa e sia le coperte termiche che sono diventate ormai il simbolo della dell'accoglienza del migrante sia che arriva in mare sia che arriva da terra perché gli si dà questa coperta che le avvolge e tanti magari ci hanno guardato un po' stupiti un po' un po' colpiti si fa memoria anche quotidianamente battendosi perché rimanga questa memoria cioè perché rimanga l'azione di impedire che questo avvenga di nuovo perché altrimenti sono coccarde o standardi che ci si mette all'occhiello per un giorno come fosse una un piccolo marchio e poi però non c'è niente dietro ecco questo mi viene da dire sulla sulla memoria e sul percorso ora mi viene da sorridere perché devi sapere che vicino alla mia unità parrocchiale che sta in Sant'Andrea in Percussina c'è il cimitero invece statunitense e quest'idea dei cimiteri di guerra insomma è forse davvero qualcosa che io a dirti la verità non ci vado di rado ma no perché non lo so mi porrò la questione insomma esattamente come riferimento proprio a quello che stavi dicendo io ho visto la risiera di San Sabba che è un luogo che andrebbe realmente promosso e tutelato ulteriormente hanno fatto tra l'altro un bel percursale ma è stata hanno fatto una bella costruzione c'è anche un'installazione artistica che rappresenta insomma in qualche modo il fiume delle persone che va verso il crematorio perché a San Sabba c'è anche il crematorio insomma ecco noi abbiamo bisogno anche ed è sicuramente uno dei pregi del libro di ricollocare le storie in dei luoghi e credo sia impossibile non appunto ricollegare a dei luoghi ti faccio una domanda anche abbastanza personale perché tu dici che il modo con cui saluti le persone di solito è insistiamo che è un'osa molto bella allora siccome Pareson diceva che in fondo la filosofia si fa a partire da una domanda sola quando uno l'ha identificata la parola lì poi magari gli serve per pensare anche a rompere le scatole agli altri insomma quindi ti faccio una domanda che sto facendo a diverse persone poi ti dico in particolare la persona a cui l'ho fatta che mi ha dato forse la risposta migliore e ti viene mai il sospetto che non ce la facciamo che vincano quest'altri che vincano scusate ora la rozzezza ideologica ma insomma che vincano i fascisti che vincano i padroni quelli peggio che vincano tutti i giorni praticamente sì poi mi viene in mente sempre il video del partigiano Pillo a Firenze di quando lo incontrarono per i social forum e c'è quel bellissimo video fatto Lungarni che quando dice ma non c'è verso perché alla fine queste idee sono troppo più belle e più intelligenti se un Ney Tocco le allune le Tocco e mezzo si vince noi mi viene in mente sempre lui perché questa se uno non ci avesse un po' quest'idea mollerebbe mollerebbe l'insistenza che cito sempre è perché alla fine ti rendi conto ed effettivamente quando fai anche un cammino di gruppo quando ti prendi il tempo giusto per ascoltare per condividere con gli altri ma da un panino a una borraccia ad acqua quando sei in una difficoltà perché magari quel momento lì ti ha preso il fiatone e non ce la fai che è troppo più che è troppo più umano che è troppo più bello quando c'è un aiuto reciproco no che nella che nella sofferenza nella sopraffazione nell'impedire di parlare di raccontare di agire o nell'arroganza insomma in tutto questo non c'è quel respiro lì non c'è quella condivisione lì quindi l'insistenza c'è per forza ma è anche una una curiosità una vita cioè io vedo che le vite anche di chi si impegna non è arriva a dei punti di conoscenza dei punti di condivisione forse un po' come dicevi tu anche a un livello spirituale o comunque dei livelli alti che puoi raggiungere con gli altri che da solo non c'è che che nella sopraffazione non c'è cioè ci scordiamo di quella di quel tipo di ricchezza lì cioè loro ce la fanno su altri aspetti appunto sull'avere più risorse sull'essere più ricco su avere più potenza o così poi ti rende conto nel tuo piccolino che se c'hai quel gruppo in cui ti trovi a fare una battaglia se c'hai quel gruppo e condividi una cosa se c'hai e poi ti guardi intorno e dici di che cos'altro ho bisogno cioè ci fanno dimenticare quella ricchezza lì ecco perché ci sentiamo sempre da meno cioè perché quello che per noi ha valore ci viene come stritolato no? quotidianamente e te devi sempre cercare di fargli un po' spazio per mantenerlo per ridargli luce per ridargli il valore perché tutto intorno nessuno gliela dà ma se noi ci si trova e poi un attimo ci si pensa e poi si fa questi cammini e poi ci sta il tempo naturalmente ritrovato perché è un altro grande privilegio avere del tempo per stare con gli altri no? Sembra ormai ci schiacciano tutto pure quello ci dividono non ci fanno vivere neanche questo ma se noi lo ritroviamo poi ci che c'hanno più di noi? allora io chiamiamolo ossessione insomma ed è il discorso di Salvador Allende dalla moneda l'11 settembre 73 quando dice insomma resistere perché questo rappresenti insomma in qualche modo un caposaldo nella storia di chi ha la forza ma non la ragione però ecco di fronte a tutti i passaggi di genocidio della storia mi permetto di dire anche di fronte a i bombardamenti a Gaza cioè nel senso queste cose che vediamo ordinariamente in una mistificazione o comunque in una semplificazione del sistema di informazione italiano da far paura veramente ecco allora l'idea di fondo è che veramente tu hai sempre l'impressione che la storia sia anche troppo segnata da vicende appunto dell'annientamento di che aveva la ragione ma non aveva la forza e questo un pochino si vede sono un po' più vecchio di te Simona evidentemente ma è bene così allora la domanda che ti ho fatto l'ho fatta anche a Lidia Mena Pace che purtroppo è scomparsa quest'anno per Covid arrivando però gloriosamente vi garantisco a ben 96 anni arrivavano ancora le mail fino a pochi giorni prima quando gli si iscriveva si doveva fare un documentario con lei arrivavano ancora le mail alle 6 di mattina lei scriveva si alzava presto e scriveva le mail quindi maledetto questo virus che ce l'ha portata via io la prima volta l'ho intervistata poi l'ho rintervistata successivamente per un documentario che mi ha prodotto lo spicci GL di Toscano insomma che poi non l'ha fatto girare e me ne dispiace molto io gli feci la stessa domanda ma ti hai mai sospetto che non ci si faccia che vincano gli altri e lei mi rispose sento un po' a pensare poi mi rispose pensa a noi eravamo rincitrulliti da vent'anni di fascismo eravamo divisi fra di noi malattrezzati e avevamo davanti l'esercito più forte del mondo se ce l'abbiamo fatta noi può farcela chiunque io con quella risposta lì sono andato avanti no ma ci va davanti ancora mi piglia sempre i bordoni quando mi commuovo sempre quando lo racconto perché insomma la Lidia poi era era questo insomma no a tanto titolo e sì ok infatti va bene insomma si 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 portare addosso, perché faccio anche molto una riflessione su spesso dire ma in tante e tanti non ce l'hanno questa memoria, non la tengono, perché è anche un po' faticoso, no? E' anche un po' tosto, cioè andare in questi posti, sia a Montesole, sia a Sant'Anna di Stazia, ma non è banale, ascoltare queste storie e tenersele addosso non è scontato, non si può dire alle persone andate là e starete bene, no? Completamente o si fa una passeggiata, così come l'impegno, la militanza, non è mica semplice, non è leggero, tante vite, e se ne parlava anche prima, o alla sindacalista, ma qualsiasi impegno che ci sa, diciamo politico, militante o collettivo, non è banale, anche il fa volontariato, non è banale, non è scontato, perché ti porta via tempo, passione, cioè questa insistenza è un impegno, cioè quando si dice un impegno è veramente un impegno, no? Quindi racconteremmo delle favole se dicessimo che non c'è dietro questa fatica, però proprio dietro a questo bisogna anche dirci che questa memoria, questa cosa che va tramandata, bisogna anche, come altre cose, redistribuirla, perché alla fine se no ci troviamo io, te e chi siamo qua a essere poi considerati di nuovo dei privilegiati e possono avere memoria, no? Mentre magari altri che a quest'ora sono ancora nei cavannoni o sono ancora per le strade a lavorare o non hanno modo di confrontarsi, di ascoltare delle storie, di prendersi del tempo, sia per la lettura, sia per andare a farsi una camminata, sia per prendersi un pezzettino di memoria. Perché spesso, no? Si sente dire, ah vabbè, le persone non ci vogliono andare in questi posti, vanno ai centri commerciali, vanno a fare gli acquisti, vanno… La gente vuole leggerezza, no? Vuole… Non ci vuole pensare alle tragedie, alle stragi, eccetera. Ed è vero. Cosa c'è in questo? C'è un'umanità, perché se io magari lavoro 16 ore al giorno, poi ho anche voglia di ascoltarmi delle stragi nazifasciste, poi ho voglia anche di prendermi un pezzettino in più della fatica degli altri o dell'aiutare gli altri, forse devo migliorare prima delle condizioni materiali a giro per pretendere che anche loro si portino addosso un pezzetto di memoria. Cioè questo ragionamento sulla memoria non si fa mai, no? Come se fosse una cosa e uno ce la deve avere di serie e se la deve portare addosso. Ma chi lo dice? Non funziona così, non è così. E si rischia, sennò veramente diventi un patrimonio per pochi. E questa cosa io la rigetto in questo senso, perché effettivamente spesso mi viene detto, no? Eh ma gli operai votano lega, eh ma gli operai non hanno memoria, eh ma gli operai, tutto così, no? Questa nenia. Eh però, cioè, a queste persone cosa gli stiamo levando del peso della vita, della fatica, dell'andare avanti? Cioè la memoria ha bisogno di spazio, ha bisogno di ascolto, ha bisogno di tempo, ha bisogno di elaborazione, ha bisogno di cultura. Non si può, capito, addossarla. In questo senso bisogna prendercela un po' per uno. Ma ho l'impressione che poi, insomma, che Silvano Sarti al secolo Pillo ha avuto la fortuna e l'onore di conoscere anch'io. E c'ha ragione, insomma, come si fa a negare che la fratellanza ha il senso di... Vabbè, partiamo da libertà, egualità e fraternità. Ragionavo stamani con degli amici, effettivamente se togli la fraternità, è quello che forse stiamo perdendo ora in questa fase, la libertà risca di essere un grosso problema perché va a scapito della giustizia, dell'uguaglianza. Quindi bisogna ricominciare a costruire veramente delle comunità. Questo è un altro passaggio anche molto bello. Ho l'impressione che, insomma, il nazifascismo resista perché, insieme all'axenofobia, al razzismo, all'omofobia, perché è una semplificazione, è un rifugio di fronte alla complessità del presente, per cui quante cose complicate. Invece io divido nord-sud, bianco-nero e sto più felice, apparentemente. Forse davvero bisogna ritornare, ora, provo a raccontarti un po' quello che, per esempio, si cerca di fare noi di Libera. Io sono il referente regionale per Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Quando si va a parlare con i ragazzi, bisogna partire dal perché questa cosa vi interessa. Vi interessa perché questi stanno attentando alla qualità dell'area, dell'acqua, di quello che mangiate, perché per il profitto sono disposto a fornirvi delle sostanze pericolose, eccetera, eccetera, eccetera. Anche questi attentano alla vostra esistenza. Allora, bisogna ricominciare a dire, appunto, che le stesse logiche che producono razzismo, sconofobia, eccetera, eccetera, sono le stesse regole che, poi, tradotte sul mercato, produrono lo sfruttamento, il fatto che non abbia più spazi per vivere adeguatamente, ti sottraggono delle risorse sulla salute, sulla scuola e quindi ti immobilizzano socialmente dove tu rischi di rimanere per sempre, insomma, no? Quindi sì, bisogna riportarlo su questa dimensione anche molto immediata e molto concreta. E felicemente, insomma, non senza offesa, ovviamente voi, insomma, fate anche questo passaggio dicendo, bene, quello che accadeva, le stesse logiche fanno sì che gli esseri umani muoiano in mare. Ah, del problema A è sempre quello solito, insomma, no? Umanità di serie A e se umanità di serie B, ma forse è il primo passaggio, la fraternità, appunto. Si può godere del pubblico in sala? Quindi si può anche chiedere se qualcuno ha delle domande, ci farebbe molto piacere, insomma, ecco. Grazie. 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 Non ho visto il film quindi mi giustifico, però rispetto alla riflessione che facevi sì, ho avuto la settimana scorsa il confronto con una operatrice culturale che mi diceva, guarda Simona, secondo me stiamo diventando consumatori di consenso, già consumatori era già l'idea, però nemmeno consumatori di servizi, di cose, ma proprio di consenso e che a seconda di quello dirottiamo tutto e ci è rimasto ben poco. Però mi viene da dirti, come si diceva della memoria come peso e orpello, anche valori spesso si sono detti e definiti come una roba di cui disfarsi, no? Perché ha che pesantezza, ha che fatica, no? Bisogna essere più rapidi, bisogna fare, come dire, anche politicamente, no? Ci vuole un'organizzazione snella, un pensiero che si adatta perché cambiano i tempi, perché insomma, quindi la memoria e i valori come qualcosa, no? Una zavorra, delle zavorre che non ci fanno andare avanti. In realtà sono energie, sono motori, sono spinte. Certo che bisogna guardarle anche con occhi diversi, studiando o approfondendo cose nuove perché cambia continuamente, però ecco si è buttato via un po' tutto insieme e forse ci si ritrova appesantiti dall'altro lato ma senza bussola, no? Un po' come quando dici, vabbè, un bagaglio, è vero che quando vai a camminare devi fare leggero il necessario, però leggero è il necessario, cioè il necessario ci vuole, se no quel peso lì, cioè, come dire, è vero che non devi avere questo peso che non ti fa camminare, ma allo stesso tempo devi avere il necessario per muoverti e forse si è buttato via anche il necessario. Come fare? Come fare? Devo provare davvero a fare qualcosa con qualcuno e non in solitaria, perché a volte anche io quando dico insomma insistiamo così, però ora dico molto più insistiamo che insisto, cioè perché insiste da sola c'è sempre meno senso e se lo fa con qualcuno c'è un senso in più. E questa cosa si è perso un po' proprio l'abitudine del fare con gli altri, questa cosa di fare un cammino te la riporta alla mente proprio perché uno ti dà un'indicazione, un altro una dritta, c'è il passo anche degli altri, insomma bisogna un po' rimparare a fare questo, ma dalle cose più semplici, non c'è da fare partito, c'è da fare anche tante altre cose prima. Se non altro anche questa, di provare a rimparare, di cercare di essere e di dare vita a una curiosità che ci muova a provare, provare, fallire, riprovare. Faccio due citazioni al volo, Camus in un libro straordinario si intitola L'uomo è rivolta, sintetizza in questo modo, mi rivolto quindi siamo. Se io comincio a rivoltarmi personalmente poi creo collettività, quindi questo insieme forse bisogna lavorare. E io lì mi chiedo come mai sia sparita l'empatia a questo livello dal contesto sociale a cui apparteniamo. Voglio citare anche un film famoso perché ha vinto un sacco di premi, ha vinto Leone d'Oro, ha vinto diversi Oscar. A me Nomadland è molto piaciuto, mio amico Federico molto meno. Sarà che io, guardate, non ho, con l'età uno poi perde anche i freni inibitori, io ho cominciato a piangere all'inizio e ho smesso alla fine. Perché l'idea che ci sia la gente che debba vivere in questo modo. Però per dirvi qual è l'approccio, forse tu l'ha letta per la riti Anson Osi, il critico cinematografico di un giornalaccio, secondo me, nessuno si offenda, che non voglio citare, che è libero, dice ma siamo sicuri che vedere Frances McDormand che fa i suoi bisogni in un secchio sia arte? Eh sì, scusate, eh sì. Perché l'arte vera non è la perfezione delle esistenze. L'arte è la rappresentazione di quello che le persone sentono e di quello che le persone possono sperimentare. Allora, secondo me, in questa fase di storia non siamo davvero di fronte a una carenza di empatia, quindi sono perfettamente d'accordo con te. Signora, lei diceva, non sono antifascisti ma non sono nemmeno fascisti, però il conterraneo per elezione, per scelta della Simona, diceva, un fascista e dieci qualunquisti fanno undici fascisti, non Lorenzo Milani. Guardate, questo è quello che stiamo vivendo adesso, perché ne basta uno per far diventare molti fascisti a loro volta se c'è qualunquismo. Prego. No, no, ma dicevo nel film ho capito. No, ma la citazione mi piaceva, la volevo fare. Grazie. No, ma la citazione mi piaceva. No, ma la citazione mi piaceva. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Il vento fa il suo giro. Sono molto meravigliato che vi faccio questo canzamento e mi ripeto molto. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.